Pronto? Siamo ai meno ricercati del mondo. Fottiti, Wilhelmina. Voglio parlarti di Bradford. Ti riferisci al mio fidanzato? Non sei innamorata di lui. Oh, Claire, quanto ti sbagli. Lo amo follemente. E per la verità sto guardando le nostre partecipazioni di nozze in questo momento. Ma lo ami più di quanto ami Maud? Io so che la rivista è quello che tu hai sempre voluto. E io sono l'unica persona che te la può dare. Continua pure. Se tu lasci Bradford, io intesterò a te Maud. Wilhelmina Slater, editore capo. Stai già sbavando? No. Incontriamoci al Bobridge a Central Park stasera alle otto. Sarò vestita da suora. O da gatto, non ho ancora deciso. Porta tutti i documenti e io intesterò Maud a te. Otto in punto. Non ho potuto triangolare il segnale. Non so nemmeno che cosa significa. Non preoccuparti, Mark. Presto tutti i nostri problemi verranno risolti. Dì le tue preghiere, puttana. Bradford, sapevo di poter contare sul fatto che lavori fino a tardi. Il giovedì non abbiamo molto tempo. Wilhelmina è al parco. Sicura? Non sei Wilhelmina Slater. No, e non so nemmeno che cosa ci faccia qui o perché stia indossando questo completo. Non farmi del male. Pensavi davvero che avrei creduto alla tua offerta? Sapevo bene che non avresti mai tolto Maud ai tuoi figli. Ma non è un problema. Magari non avrò Maud, ma molto presto avrò tutto il resto, compreso tuo marito. Oh! Ma continua a parlare di me. Che maleducata. Siediti, sei tu l'ospite. Lascia che ti prepari un drink. Anche se probabilmente dovrei berlo in fretta perché la polizia sarà qui in... tre minuti? Me ne basterà uno.